Maxi evasione nella gestione delle RSA, questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Arezzo che adesso ha disarticolato l'organizzazione. L'indagine era iniziata nel 2019, quando nel mirino delle Fiamme Gialle era finito un gruppo che aveva base nell'Aretino, ma operava anche nel centro e nel nord Italia. Da anni gestiva strutture socio-assistenziali in affidamento da parte di enti pubblici e privati. L'associazione criminale investigata ha lavorato nel corso di questi anni principalmente tramite il sistema delle indebite compensazioni. Quindi sul modello F24, il modello che serve per il versamento delle imposte, venivano di sovente indicati crediti inesistenti sostanzialmente. In questo modo le varie cooperative facente parte del consorzio potevano non versare imposte nel corso degli anni. Un meccanismo che dal 2013 ha permesso di evadere ben 26 milioni di euro. Questo grazie ad un meccanismo che ha utilizzato una serie di cooperative costituite ad hoc con un breve ciclo vitale portate alla liquidazione con un importante debito fiscale e poi naturalmente mai onorato e poi affidate a soggetti prestanome. Questa mattina la finanza ha eseguito tre ordini di custodia cautelare, uno in carcere e due ai domiciliari, nei confronti dei vertici dell'associazione, varie perquisizioni ed un sequestro preventivo per oltre 500 mila euro. Dieci infine le persone denunciate. I reati contestati sono quelli dell'associazione a delinquere finalizzata ai vari reati fiscali tra cui l'omesso versamento di ritenute, l'indebita compensazione di debiti fiscali con crediti fittizi. Grazie.